Io voglio lasciare la parola al nostro fratello a dire due parole come è arrivato a questa decisione e poi procediamo insha'Allah a fare la formula completa di scelta. Bismillah Sì, allora come dicevo prima all'imam, io sono venuto a contatto con questa religione ho molti amici musulmani, maruchini, angelini, penisini e sono cresciuto praticamente con loro da quando ero piccolino ed è capitato a volte anche di fare qualche giorno di Ramadan così con loro, anche se non ero ancora musulmano e ho sempre incontrato persone esquisite, accoglienti e poi è capitato quattro anni fa circa che una mia amica penisina mi ha detto perché non leggi il Corano? Allora mi ha dato il Corano, una traduzione in italiano e ho iniziato a leggerlo solo che poi non ricordo bene per quale motivo ho interrotto la lettura però mi sono sempre informato su internet e per i motori di ricerca insomma sull'Islam e poi qualche mese fa, circa tre o quattro mesi fa ho iniziato di nuovo la lettura del Corano da capo e niente, non sono più riuscito a smettere di leggerlo ancora adesso continuo a leggerlo sempre mi informo sempre, tutti i giorni ed è come se l'ho già detto anche quando ho detto la mia scelta è come se il velo che copre la verità man mano che spoglie le pagine di questo sacro libro si toglie e viene a conoscere proprio la verità la senti proprio dentro Alhamdulillah, Allahu Akbar andiamo avanti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar al nome di Allah il misericordioso il clemente pace e benedizioni sul nostro profeta Muhammad insomma la sua e i compagni e sulla sua famiglia oggi il 22 il 25 maggio dell'anno 2022 ripeti dietro di me insha'Allah con la tua volontà la formula di addizione all'Islam credo credo in Allah unico testimonio che non c'è Dio al di fuori di Allah e che il Muhammad pace e benedizioni di Allah su di lui il suo ultimo profeta e messaggero credo negli angeli credo nel giorno del giudizio credo nei profeti e messaggeri mandati di Allah nei profeti e messaggeri mandati da Allah credo credo nei libri sacri rivelati da Allah nei libri sacri rivelati da Allah credo credo nel giorno del giudizio nel giorno del giudizio credo che c'è una vita dopo la morte credo che c'è una vita dopo la morte e credo nel destino e credo nel destino sia il bene e il male sia il bene e il male Allah Allah testimonio testimonio Della mia testimonianza Della mia testimonianza Testimonio anche Testimonio anche Di Isa Che è Isa Figlio di Maria Figlio di Maria Di un profetta Di un profetta Di un messaggero Mandato d'Allah Di un messaggero Mandato d'Allah Il tuo nome di? Zaccariah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Zaccariah Zaccariah Allah subhanahu wa ta'ala ti accetta Ti perdona i tuoi peccati Ti aiuta Ti guida Ti ilumina la tua strada Inshallah Inshallah Que Allah subhanahu wa ta'ala Te rendi mele Tocmere il bene L'islamo al musulmane E da l'umanità Inshallah 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 Adesso 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 Adesso